Bentornati su Hermes Channel Web TV. Parliamo di cultura, in particolare in questa puntata informativa, un apicultore hobbista ci parlerà di api e di vespe. A riguardo ci darà delle nozioni il signor di Brindisi Sabino di Castellana Grotte. Vediamoci il video! Ciao! Oggi ci troviamo in compagnia di Sabino di Brindisi, apicultore hobbista di Castellana Grotte. Oggi a Saichè si parla di natura di api. Ciao Sabino intanto! Ciao! Ecco, arnia, custode delle api. Com'è fatta? Adesso vi faccio vedere. Questa è un'arnia completa di melario ed è la casa delle api, dove loro allevano la loro prule, dove tengono la loro covata, le loro scorte di miele e di polline per dar da mangiare alle loro larve. Arnia, la custode delle api, com'è fatta? Questa è la casa delle api dove noi le alleviamo, le teniamo al caldo e adesso vediamo di aprirla e vedere com'è composta l'arnia nel suo interno, ok? Quello che sto togliendo adesso è il foglio per prendere la propoli. Come vedete, questa è la propoli pura, che le api prendono per sigillare la loro casa, per farla... è tipo un mastice che tiene sigillata la casa e non fa entrare aria o freddo all'interno. Questo che stiamo vedendo adesso è il cosiddetto melario, dove le api mettono il miele. Qua si può vedere un po' di miele, perché l'abbiamo raccolto poco tempo fa. Adesso tolgo il melario e questa è la famiglia, come diciamo noi in gergo, è il nido, dove vengono allevate le api, dove hanno la loro covata e le loro... tutte le loro esigenze. bisogna andare sempre con cautela, con calma, mai affrettarsi. Ecco questo è un telaino dove stanno mettendo il miele e dove metteranno anche... questo è un telaino di scorte, dove c'è anche un po' di covata, se riesce a vedere, nelle cellette, quei puntini bianchi, quella è la covata. Adesso vediamo se c'è la regina... ecco qua la regina... se riesce a inquadrarla... questa è una ligustica. Lei è la promotrice di tutto l'alveare... cioè lei gestisce tutto l'alveare... e anche la nascita delle femmine e dei maschi... a secondo come lei vuole gestire l'alveare. Allora, questa la mettiamo dentro perché la regina non deve andare via... perché senza della regina l'alveare muore. Questo invece è un telaio di covata femminile. come puoi vedere... ci sono le api intorno... questa è tutta covata femminile... questa qua... e qua sotto ci sono questi bozzi... che sono i fuchi... e sarebbero i maschi che poi servono per fecondare la regina... quando fa il volo di... il volo nuziale. ecco... questo è un bel telaino di covata... è tutta covata femminile... con qualche covata maschile... queste protuberanze sono... covata maschile... e qui ai bordi... c'è il nettare... il miele... che serve per... dare da mangiare ai piccoli... mentre questa è una nuova cella reale... che le api si stanno incominciando a costruire per sostituire la regina... però noi questa la togliamo... perché non vogliamo... far... diminuire le api al suo interno... questo lo poggiamo qua... e togliamo un altro telaino... ecco qua... questo è lo stesso... con covata femminile... molto estesa... qui al centro c'è un po' di nettare... sempre per la covata... che deve nascere... per quando nascono le api... allora incominciano a nutrire... e poi... fanno la loro vita... ecco... qua ci sono anche delle celle reali... vabbè... queste le tolgo... come puoi vedere... l'arnia è formata anche... se riesci a... entrare... l'arnia è formata anche da un fondo... con la rete... che serve per la varroa... per quanto facciamo i trattamenti per la varroa... che è un parassite delle api... cade attraverso quella rete... e non riesce più... a rovinare... la vita delle api... perché è un parassite che succhia... diciamo... la linfa... e le fa morire... le fa indebolire... e poi morire... ecco... adesso ci troviamo in un'altra postazione... siamo usciti dall'apiario... e continuiamo con le domande... cosa producono principalmente le api? le api producono il miele... polline... la propoli... c'è la cera... e la pappa reale... ecco Sabino... quali sono le loro proprietà... e il loro utilizzo? il miele lo conosciamo tutti quanti... che è benefico per tutti... per tutte le persone... mentre non è adatto per i bambini... sotto i due anni... tenetelo ben a mente... perché... può fare danni irreversibili... poi c'è la propoli... che è un... per le api... è un collante... che vanno a sigillare... tutte le fessure... per non far entrare il freddo... il caldo... in base ai periodi... però per l'uomo... è un antibiotico naturale... poi c'è la cera... che si può... che loro utilizzano... per fare... le celle... dove allevano... la covata... dove mettono il miele... e la cera... viene utilizzata... anche... in falegnameria... per la cosmesi... per tanti fattori... per le candele... i cieli... tante cose varie... e poi c'è la pappa reale... che è la pappa... quella che danno... i primi tre giorni... a tutte le api... normali... e poi... loro scelgono... fra loro... una... in particolare... che diventerà... la loro regina... e viene nutrita... solo... a pappa reale... finché... non nasce... lei mangia... solo... pappa reale... ed infine... producono... anche il polline... che loro... vanno a raccogliere... da fiore in fiore... con... le zampette... dove... lo mettono... sulle zampette posteriori... e lo portano... nell'alveare... a cui danno... poi... alle loro larve... quelle che non vengono più nutrite... con... pappa reale... danno... miele... e polline... per tutto... cioè... per... il resto... del loro periodo... che poi... nascono... dalle... loro celle... Ecco... Sabino... invece... nell'alveare... ci sono... i problemi ci sono... come vi ho fatto vedere... prima... nell'apiario... i problemi maggiori... sono quelli... della tarma... se non vengono... presi in tempo... possono anche... far spopolare... il nido... tutta... diciamo... tutte le api vanno via... perché non riescono più... a covare... e poi ci sono... i problemi... riguardanti... la salute delle api... riguardanti... della varroa... maggiormente... che vengono trattati... più di una volta... l'anno... senza del melario... e... poi... c'è anche... la cosiddetta... ettinatumida... che ci hanno importato... dall'estero... che ci fa distruggere... gli alveari... da noi... fortunatamente... eh... ancora... non c'è... però... dobbiamo stare sempre attenti... quando... ci troviamo... questi... soggetti... nell'arnia... del nido... che ci danno... parecchi problemi... ma poi... i problemi maggiori... eh... sono... dell'uomo... che... facendo i diserbanti... i neonicotinoidi... e tutti i trattamenti... che fanno... e fanno impazzire le api... distruggono le api... e portano una moria... abbastanza consistente... di api... purtroppo... se noi... continuiamo ancora... con... questi... diserbanti... questi... trattamenti... fatto a casaccio... e... purtroppo... le api... andranno a scomparire... e con loro... scompariremo anche noi... purtroppo... le api... sono gli impollinatori... principali... che abbiamo... perché farfalle... non ce ne sono più... altri insetti... per l'impollinazione... non ce ne sono più... se muoiono le api... anche noi... siamo destinati... a morire anche noi... ecco Sabino... e c'è una differenza... tra la puntura di ape... e la puntura di vespa... e cosa devo fare... nel caso... mi dovessero pungere? allora... c'è una differenza... abbastanza... consistente... perché il pungiglione dell'ape... è tipo... seghettato... e una volta che ti punge... il povero ape muore... perché il suo pungiglione... è tipo seghettato... una volta appunto... rimane nella pelle... e il povero ape... lascia anche la sua sacca... velenifera... con tutto il resto dell'addome... nel... quando poi va via... mentre quello della vespa... invece no... è liscio... come l'ago di una siringa... e... niente... quello... quella ti può pungere due... tre volte... mentre l'ape normale... ti punge una volta... e basta... per toglierlo... non... si dovrebbe utilizzare... le mani... ma... bisogna utilizzare... una carta magnetica... o... un cortello... senza... cioè... che non taglia... altrimenti vai a tagliare il pungiglione... un qualcosa che deve togliere... senza schiacciare... la sacca... velenifera... dell'ape... che ti lascia attaccata... al pungiglione... questo per quanto riguarda... l'ape melifera... mentre la vespa... può pungere varie volte... ma non muore... Sabino... e nel caso dovessi trovare... un nido di apidi... cosa devo fare? allora... prima di tutto... di non avvicinarvi... vedere che tipo di api sono... chiamare... i vigili... o... chi di competenza... oppure... chiamare qualche apicoltore... e lui sa come intervenire... e cosa fare... allora... le api che potete incontrare... molto facilmente... in queste zone nostre... sono le api melifere... e i bombi... invece Sabino... sei trovato... un nido di vespidi... cosa devo fare? allora... bisogna stare... prima di tutto... alla larga... da questi... da queste vespe... da questi calabroni... e chiamare un apicoltore... chiamare qualcuno... che è competente in materia... si sa proteggere... e sa come deve intervenire... per eliminarli... per togliere... questo fastidio... alla... alla persona... o dove si sono insediate... allora... in queste... in queste zone... si possono trovare... i calabroni... che comunemente... vengono chiamati... in poche parole... innanzitutto... grazie a Valeria... che ha fatto da Giraffa... a microfono... e grazie anche a te... Sabino... che ci ha aperto... un mondo nuovo... che sicuramente... quasi nessuno conosceva... speriamo... come sempre... che i suggerimenti di Sabino... vi siano stati utili... sai che... può interessare... o coinvolgere... anche te... grazie... grazie...